Il Bobbio Film Festival verrà inaugurato questa sera con un omaggio a Federico Fellini di un altro grande maestro del cinema, Ettore Scola, con il film Che strano chiamarsi Federico, presente alla serata oltre al regista l'interprete Sergio Rubini, un festival che omaggerà in particolar modo la figura dell'attore. Come tutti gli anni abbiamo proposto nel festival del 2014 una carrellata sul cinema dell'anno appena trascorso, quindi una carrellata, un programma che comprende sia film noti, sia film invisibili, sia film che sono opere prime, sia pellicole di grandi maestri come Amelio e Scola e quest'anno in particolare in qualche modo sembra essere l'attore al centro del nostro sguardo indagatore. Avremo infatti, madrina in qualche modo del festival, una grande star internazionale come Claudia Cardinale a cui è dedicata anche la bellissima mostra del centro sperimentale di cinematografia che abbellisce il corridoio di ingresso al Chiostro. Ci sarà anche un omaggio a un'altra grande artista italiana, Piera degli Esposti e poi per esempio ci sarà in qualche modo una sorta di retrospettiva sul cinema di Pippo del Bono. Quindi un festival ricco di sorprese e crediamo di incontri culturalmente, artisticamente speriamo interessanti per il pubblico. Grazie. 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 Grazie.